Il secondo singolare ha invece un esito imprevisto. Michele Porcarelli vince a fatica il primo parziale 6-4, poi viene dominato e finisce col soccondere 6-3 al terzo. Questo che vediamo è il match quando lo fanno. Adesso ascoltiamo Michele Porcarelli nell'intervista post-match che ci ha rilasciato a noi di MGA TV.